Principe Emanuele Filiberto oggi a Isernia dove dormì Vittorio Emanuele II a Palazzo Cimorelli, lo sapeva? Dunque dopo più di 150 anni ritorno con gran piacere in questa bellissima cittadina, in questa bella terra che era forse stata l'origine dell'Unità d'Italia, se non si fermava qua forse non incontrava Teano E qui come testimonial dell'eccellenza italiana, oggi per l'Optodinamica Marinelli, perché questo progetto? Ci spiega? Sono qua per parlare di questa iniziativa che ho creato che si chiama Eccellenza Italiana dove noi vogliamo aiutare e mettere alla luce le piccole e medie imprese italiane che sono ancora delle vere e proprie eccellenze, che spendono, fabbricano, creano diciamo tutta questa a mio avviso enorme ricchezza, anche se sono piccole e medie imprese, per un'Italia forse che non li accompagna come dovrebbe accompagnarle. Qua ci sono in tutta Italia delle grandi eccellenze, delle persone che credono in questo paese, nelle potenzialità di questo paese e che tutti i giorni si confrontano a delle vere realtà delle difficoltà, ma che continuano malgrado tutto ad amare. Ecco, io quello che dico all'eccellenza italiana chi ama il suo territorio e chi lo sfrutta bene. Facciamo un po' il giro dell'Italia, eravamo in Calabria oggi siamo qua in Molise e devo dire che con gran piacere che scopro delle realtà uniche perché quello che ho visto oggi sono dei brevetti esclusivi fatti da italiani qua in Molise e sono queste cose che noi dobbiamo promozionare, queste società sono il fiore all'occhiello della nostra Italia è il motore della nostra economia, però non vengono aiutate dunque con quello che sto provando di fare una specie di networking tra queste eccellenze, una piattaforma digitale ma non solo dove ci sarà non solo un percorso per i turisti che vengono, le società che vogliono sapere di più su altre società ma anche dove tutti insieme potremmo organizzare fiere, incontri all'estero è una promozione a livello nazionale come a livello internazionale tutto questo lo faccio con un disciplinare molto rigido che è fatto dal Buro Veritas che sono i leader mondiali della certificazione, dunque non è un come all'epoca forse fornitore della Real Casa dove oggi non sono nessuno io per dire mi forniscono, però ho voluto fare qualcosa di molto più professionale con il Buro Veritas e dare delle certificazioni a chi oggi ama il suo paese dunque rimane qua e fabbrica qua e spende qua e paga qua Pier Simoni, socio dell'azienda, cosa farà? Porterà il principe a vedere il posto dove dormì Vittorio Emanuele II? La prossima volta che viene già siamo rimasti d'accordo intanto ringrazio il principe perché effettivamente ha voluto selezionarci in questo marchio d'eccellenza che in effetti sta cercando di portare avanti appunto sulle piccole e medie imprese questo è importante perché sono quelle che hanno più bisogno di visibilità quindi lo ringrazio intanto per aver scelto la nostra azienda e è l'occasione anche per noi per poter comunicare all'esterno questo voi sapete che noi operiamo da qualche mese però ecco abbiamo approfittato appunto della sua presenza per poter lanciare veramente questo progetto un progetto molto interessante che ci porta a voler essere i primi produttori di lenti oftalmiche in Italia ma a proporci molto bene anche all'estero anche con l'aiuto del marchio che il principe vorrà darci nel momento in cui applicheremo il disciplinare a presto 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 Grazie.